Il caso di una lavoratrice Il caso di una lavoratrice legale a Mestrino, alla sede dell'Aspia, che è stata spostata in un ipermercato. Aveva dei problemi da 5 anni di cefalee importanti, documentati dalla Commissione Medica, ma questo non è servito per fermare l'azienda. La Commissione Medica ha accertato questo e dopo che ha accertato e ha sospeso quel nuovo posto di lavoro, l'azienda ha pensato bene di sospendere la lavoratrice dalla retribuzione e dal lavoro. Il giudice riconosce alla lavoratrice il demansionamento, ma non trova elementi sufficienti per ordinarne il reintegro. L'azienda decide di licenziare la donna, al che si apre un'altra vertenza per il lecito licenziamento. Viene quindi introdotta la legge Fornero, che prevede il pagamento di 24 mensilità, che ad oggi l'azienda non è ancora versata alla lavoratrice, madre divorziata, di due figli. Un'azienda apparentemente in buona salute, che continua ad assumere. Ad oggi il risarcimento del danno non è stato ancora erogato. Il sindacato però avverte, con il job set sarà peggio. Se fosse già in vigore, le mensilità non sarebbero più 24, ma 10, ovvero due per ogni anno di contratto. Dopo, con le tutele crescenti, la stessa persona ad oggi avrebbe preso solo 10 mensilità. Perciò vuol dire che sono invogliate ancora di più le persone che non accettano qualsiasi, non dico quelle giuste, qualsiasi cosa l'azienda comandi, vengono licenziate. Beh, professore, il quadro, questa lavoratrice ha visto in che condizioni rischiamo di mettere, lei l'ha detto prima, lo so, però cerchiamo di, su che altri stimoli gli abbiamo dato, professore, rispetto a questo. Io torno a dire, forse non sono chiaro, c'è una forza enorme da parte del capitale, sia finanziario che produttivo, di stendere al tappeto i lavoratori e di creare la ricchezza, non sulla ricchezza degli altri, ma sulla povertà degli altri. Se non si coglie questo mutamento del capitale, non si capisce niente di quello di cui ci sta parlando. Il capitalismo fino a pochi anni fa viveva di consumi, vale a dire il capitalista è ricco perché fa consumare, il capitalista attuale vive di capitalismo finanziario che non dà un posto di lavoro e di capitalismo di depressione dei consumi, perché il capitalista oggi diventa ricco anche se i consumi sono scarsi, quello che non si coglie è questo, il nuovo profitto è diverso dal passato. Perché il nuovo profitto nasce dall'abbattimento dei costi di produzione, io veramente non si riesce a capire, si parla con persone che non sanno di che cosa parlano, il nuovo profitto è diverso dal vecchio profitto, quindi quando fanno le lotte per avere diritti dei lavoratori fanno lotte inutili, perdute in partenza, tant'è vero che è una susseguenza di lagne. Si può sostituire la lagna a un progetto? Io vorrei che me lo dicessero però, perché se continuano a lagnarsi avranno bastonato da qui a cent'anni. Torno però all'argomento, fallito il tentativo, quale fallito? Quale tentativo? Quello sovietico non c'entra nulla con quel che dico io, quello jugosglavo non c'entra nulla. Perché non c'entra nulla? Perché mi volete spiegare che lavoro date ai lavoratori disoccupati? Mi sapete dire che succederà quando ci saranno milioni di disoccupati? Che faranno questi milioni di disoccupati? Torno a quel che dicevo prima, o si tassano i ricchi e si dà a quelli che non lavorano, cosa che non sarà, o si riduce l'orario di lavoro, cosa che in sistema capitistico non si darà, o si creano il sistema di lavoratori. Se me ne è dato un'altra prospettiva, a parte le critiche, me la dicono. Prima Pitani parlava di piano industriale. Ma il piano industriale nell'interno del capitalismo è questo. Ma la vogliamo capire? Ma io veramente devo dire, ma come si fa a non capire questo? Il piano industriale chi lo fa? I capitalisti lo fanno, per loro lo fanno. E tu dovresti farlo a politica, non dovresti farlo a politica. Ma no, ma la forza, in politica, vince chi ha la forza. Loro sai perché perdono? Perché dietro alle spalle non c'hanno nessuno. Hanno i sindacati che l'unica cosa che possono fare è scioperare. Se fanno fare due giorni di sciopero e se ne infischiano. Questa è la realtà. Perché perdono? Perché non hanno una base sociale. Io se parlassi con gli amici suoi, la signora qui presente onorevole, gli direi questo. Ma che base sociale avete? Che razza di protesta mi fate? Due giorni di sciopero? Il terzo giorno c'è il risuscitamento del capitale. Questa è la realtà concreta. Questa è concreta. Poi possono parlare quanto vogliono e gridare quanto vogliono. Però nella concretezza che hanno fatto scioperi. Io insisto e ripeto. Cominciano a fare piccole imprese di lavoratori. Diano ai lavoratori l'idea che possono gestire l'economia. Diano l'idea che possono gestire l'economia. Il capitalismo è messo al tappeto. Quando tu gli crei una costa antagonista, tu dici sogno, fantasia. Va bene, allora andiamo avanti così. Perché è una serie di lutti. Qui è una caterva di lacrime. Non c'è una vinta. Tutto perdete. Perché? Perché dietro c'è una base sociale forte. Renzi non sarebbe niente se non avesse dietro le spalle la grande industria e la grande produzione. Questo è Renzi. Renzi sta facendo semplicemente l'uomo di questa gente. E tant'è vero che all'applausi di questa gente. Perché ora che cosa succederà? Succederà come giustamente dicono, devo dire, l'analisi è perfetta, la terapia è che non va. Che ci saranno? Più licenziamenti, assunzioni precarie, salari, pensione e difame. Questo accadrà. C'è una possibilità alternativa a questo? Io questo, vedi, io da almeno 25 anni, da quando ho scritto lavoratore e imprenditore, nel 93-94, quindi quasi più di 30 anni, quasi 25 anni, ho scritto questo. Il lavoratore deve diventare imprenditore. Perché non ha altre alternative. Il mio libro è intitolato lavoratore e imprenditore. Poi ho fatto lavoro dal lavoratore e imprenditore al cittadino e imprenditore. Perché si tratterà anche dei servizi. C'è l'altro problema che evidenziava anche Ibirani prima, c'è il problema del credito. Il credito non c'è. No, scusa, quando mi ci dice che è fallito quelli precedenti, è fallito certo, ma oggi ci siamo in condizione di milioni di disoccupati. Ora, questi disoccupati... Domanda, a cui spero che qualcuno mi risponda. Che faranno questi disoccupati? Vedi, ora non li manterranno manco più. Questo è il comico della faccenda, che i disoccupati oggi si troveranno sull'astrico. Cioè, tra qualche anno i disoccupati non hanno più nessuna garanzia. Nessuno li manterrà. Si rischierà proprio di crepare di fame. Sì, non è che siamo allo scenario dell'opera da tre soldi, però, insomma... Sì, ma, sì, a parte le battute, questa è la realtà. C'è sottooccupazione. In Germania, in Germania, che si vanta tanto la Germania, i salari sono tremendi. Negli Stati Uniti, che si vanta tanto gli Stati Uniti, i salari sono tremendi. Oh, attenzione, eh! C'è una sottooccupazione paurosa! Voglio parlarvi del dato americano, Pirani. Il dato americano è questo qua. L'abbiamo analizzato in chiave positiva perché gli investimenti pubblici hanno fatto ripartire il PIL, l'economia, l'occupazione. Però poi mi è arrivato un messaggio dicendo, però, attenzione, perché le persone che sono state rioccupate oggi guadagnano tutte molto di meno rispetto a quello che guadagnavano prima. Quindi da questa nuova occupazione è di fase sociale inferiore. Ma poi la sostituzione con gli immigrati, scusami Diego, fammi completare il discorso. Sì, professore, questo è stato il dato che ci è arrivato. Quindi entusiasta all'inizio perché il dato era importante. Si diceva, se investimenti pubblici vengono fatti, vi ricordate l'attività anche della Federal Reserve, molto ampia per dare sostegno all'economia, però la rioccupazione non è stata buona. Come numeri sì, come dato assoluto di occupazione sì, meglio di stare per strada, diciamo. Però dal punto di vista del coefficiente di reddito, più basso rispetto alla rioccupazione. Il reddito è calato, cioè tende a calare, però si è arginato ed si è invertita la tendenza sul piano occupazionale. Che non è poca cosa. No, 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 certo, certo. Perché dà il segno di un dato, perché se no ragioniamo secondo me in maniera non corretta, che noi siamo, come gli Stati Uniti, dentro un sistema democratico, con tutti i difetti dello stesso, perché è evidente che, anzi, lo si mette ogni giorno in discussione e ogni giorno te lo devi riconquistare in qualche misura. E però c'è un'azione della politica che alla fine in qualche modo decide nell'interesse del bene comune, della nazione, e come è avvenuto, perché se no l'Iobama che politica ha fatto a fronte di una crisi partita da loro, perché è evidente, è partita dalle politiche dei governi precedenti, Reagan, Bush, eccetera, dove liberalizzando le regole del credito, certo, del credito del capitale ha prodotto il disastro che si è prodotto. E però che operazioni poi sono state fatte? Sono state fatte operazioni di controllo sulle banche, addirittura il paese che era il centro del capitalismo ha nazionalizzato a un certo punto le banche proprio perché doveva gestire il problema del credito. E dall'altro c'è stata un'immissione di carta moneta, la politica della Federal Bank, e sono stati fatti forti investimenti, si è tentata una riforma della sanità, del sistema sanitario, sono state politiche che hanno i loro limiti, eccetera, si è sfruttata un'opportunità tecnologica e energetica che gli ha consentito di essere autosufficienti dal punto di vista energetico, c'è il gas, c'è l'oil, e su questo si è lavorato per ricreare posti di lavoro. Un piano industriale è stato fatto, lì un piano industriale è stato ragionato, è stato fatto. È stato molto duro perché se vediamo ad esempio paradigmatica la vicenda Chrysler, dove c'è stato un ruolo attivo delle organizzazioni sindacali, sono stati messi a disposizione i fondi pensione dei dipendenti della Chrysler, si sono ridotte le dinamiche anche salariali, però scegliendo l'obiettivo dell'investimento e dell'occupazione. Tante volte noi alla fetta abbiamo chiesto ma i modelli, perché tu vuoi cassa integrazione, ma i modelli nuovi dove sono i modelli nuovi, dove sono le scelte industriali? Vedremo se arriveranno adesso a Melpi, a Pomiglia. Però è un sistema con tutti i limiti ancora governati, io non penso che possiamo abbandonare la frontiera della difesa democratica, perché se abbandoniamo questa, proprio perché poi la forza diciamo finanziaria che gira per il mondo è tale che se non hai una forza istituzionale del problema dell'Europa, l'Europa è stata costruita come un grande sogno, ma se non diventa una istituzione democratica e rimane una tecnostruttura controllata da scelte di gruppi finanziari entra in cortocircuito e secondo me questo è il problema che abbiamo in Italia e in Europa. Credo però come sta dimostrata anche la vicenda greca che pure ha i suoi limiti che le persone alla fine incidono incidono sulle scelte sulla possibilità dobbiamo in Italia qual è il problema dell'Italia? Che abbiamo gli ultimi governi che non sono governi tra virgolette parlamentari sono stati governi del Presidente governi di emergenza noi dobbiamo tornare diciamo ad un sistema in cui il rapporto tra cittadino e eletto sia un rapporto molto più diretto cosa che dobbiamo fare anche in Europa. Una provocazione che vale per tutte e tre e che poi si trasforma invece in una domanda per tutte e tre il primo da alcuni economisti dicevo il professor Leonardo Becchetti dell'Università di Tor Vergata che ha un po' scritto il documento della nuova Breton Wools l'economia della felicità c'è una provocazione che poi è sorta quando si è analizzato con i parlamentari l'idea di privatizzare con un decreto le banche popolari c'è il concetto di dire dal voto capitario passiamo a una sorta di voto finanziario con la provocazione di dire poi nel 2030 diventerà anche inutile durante le elezioni politiche regionali comunali portare al voto anche lì cerchiamo di ricostruire un voto per delega perché tanto è uno strumento diciamo così di rallentamento il concetto democratico di riportare al voto allora questa è la provocazione la domanda è questa io quando i padri costituenti hanno messo in piedi la nostra carta costituzionale e hanno costruito le varie strutture no? le varie organizzazioni si sono focalizzate in corso i cedi intermedi ecco si è pensato di dire l'Italia parte in quegli anni con una popolazione con grande analfabetismo tu hai un grande analfabetismo hai molta povertà devi costruire diciamo così dei strumenti di delega nelle decisioni e quindi il Parlamento in certo modo le decisioni prese a livelli comunali o altro però il concetto era anche quando si arriverà a un'economia o diciamo un analfabetismo forte quindi la scomparsa l'analfabetismo una maggiore coscienza una minore povertà quindi tanta gente è più capace cioè io ma su tutte quelle che possono essere problematiche dalla gestione del quartiere alle dinamiche di varie professionalità e settori cioè inserirli prima o poi qualche strumento di partecipazione è poco solo il voto cioè è poco solo il meccanismo del voto elettorale è l'unico meccanismo per far partecipare attivamente la popolazione alle decisioni cioè secondo me ormai è diventato uno strumento scusate se ve lo dico se poi è una provocazione ma voglio sentire la vostra opinione è uno strumento superato cioè ci sono in Italia milioni di laureati di ingegneri architetti avvocati professori ma veramente questi cioè con una delega a cinque anni cioè riescono nel momento in cui fanno nell'urna a prevedere effettivamente quello di cui hanno bisogno giornalmente facendo una delega quinquennale cioè se noi proviamo a razionalizzarlo questo ragionamento è troppo cioè ormai la delega quinquennale è una delega diciamo così anacronistica cioè bisogna tolto perché non si può votare tutti i giorni però bisogna trovarlo qualche strumento di partecipazione se si riesce a impiantare forse cioè riformare il metodo di partecipazione generale del popolo a quello che è la vita del proprio paese forse si riesce a costruire questo strumento allora ritornano protagonisti sindacati ritornano protagonisti tante altre forze sociali sì sì faccio un esempio per tutti l'Italia è uno dei pochi paesi dove il sistema pensionistico sia che è fatto da soldi che sono raccolti dai lavoratori e dalle imprese non è fatto da soldi pubblici per essere chiari è gestito dal governo che ti nomina di volta in volta il professor Boeri piuttosto che qualcun altro secondo me quello è un terreno dove noi dovremmo rivendicare le parti sociali dovrebbero rivendicare una gestione diretta e assumere anche quindi un potere economico come ad esempio anche il tema dei fondi pensioni integrativi sono gestiti dei fondi pensioni integrativi contrattuali quelli bilaterali saranno 100 miliardi di euro il giro e qua per trovare un miliardo per qualche investimento fai le guerre le guerre le guerre civili invece di valorizzare questi strumenti adesso li si vuole tassare di più e li si vuole assorbire e portare sotto controlli governativi e noi dobbiamo partire da lì come penso anche nei servizi pubblici tutta una discussione adesso sull'efficienza dei servizi pubblici sul fatto che c'è uno spreco che ci sono 30 mila centri di costo noi in Italia abbiamo 1200 società di trasporto pubblico locale che è una follia ne basterebbe una per regione estremizzo quindi un processo anche di riorganizzazione e di risparmio però devi anche avere una partecipazione dei cittadini dei lavoratori almeno negli indirizzi di queste di queste società non pensare che arriva il privato e risolve tutti perché anzi molto spesso noi vediamo che l'entrata dei privati in tutta una serie di servizi vediamo gli ospedali diventa fronte di corruttela e di spreco di corruttela e di spreco Onorevole Gregori guardi allora dalla mia diciamo così umiltà spero di non di non essere anzi offensivo però suggerisco un tavolo di dialogo col Presidente del Consiglio state riformando la Costituzione ma ci sono proprio su questo visto che da una parte si vuole efficientare e visualizzare il modello decisionale in Parlamento diciamo bene te lo possiamo in parte anche cedere però in cambio inseriamo in Costituzione tanti piccoli modelli partecipativi per i scelti sociali intermedi per la popolazione chiedetegli già in Costituzione tale che poi un domani non sono ripensabili da nessun diciamo leader illuminante potrebbe essere questo il tavolo lei ci crede alla partecipazione effettiva delle persone a tanti processi decisionali assolutamente sì tant'è che noi avevamo chiesto proprio una discussione con i cittadini con la base proprio nel merito delle riforme la riforma costituzionale il Jobs Act la legge elettorale non è stato fatto e per questo sembra assurdo dirlo ma anche noi ci siamo trovati soli tra virgolette nel fare quella battaglia in che senso perché il popolo non ha compreso e non può comprendere il perché magari si dibatta sui cinque senatori di nomina presidenziale o meno perché non c'è stata possibilità di confronto non c'è stata la partecipazione il punto non erano cinque senatori il punto era tenere aperto uno spazio politico all'interno di un articolo della Costituzione che vedeva la nuova composizione del Senato per far sì che al Senato quindi alla terza lettura quella riforma potesse essere migliorata quindi io credo assolutamente nella partecipazione credo assolutamente nei cittadini diciamo che oggi il sistema deve essere molto più snello e è vero noi siamo pieni di burocrazia questo lo possiamo cedere al Presidente del Consiglio però inseriamo però allo stesso tempo snellire non significa eliminare una parte quindi voglio dire questo noi lo diciamo sempre all'interno del partito lo diciamo con forza faccio un esempio la discussione che ci sarà oggi pomeriggio al Nazareno è una discussione assurda perché nuovamente torno a quello che dicevo all'inizio della trasmissione nuovamente si chiamano i gruppi parlamentari posto che i gruppi parlamentari sono nominati sono scusate convocati dal capogruppo e non dal segretario del partito vengono chiamati i parlamentari di Camera e Senato a discutere di riforme fondamentali come quella della scuola come quella della Rai per un'ora ciascuno allora intanto non si possono discutere queste riforme in un'ora primo secondo è sbagliato quello che dicevo prima ripeto convocare o la direzione nazionale o il Parlamento e decidere lì andava convocata un'assemblea dei circoli l'assemblea dei segretari di circolo vede perché sarebbero strumenti di partecipazione ma prima c'erano però messi in statuto ma allora già all'interno a voi mancano nello statuto già nel partito questa forma di partecipazione viene diciamo viene tagliata viene azzoppata perché sostanzialmente è questo quando si chiedeva la riunione quando Stefano Fassina chiedeva una riunione dei segretari di circolo su quelli che erano i temi delle riforme Stefano Fassina non era un pazzo Stefano Fassina poneva un problema e cioè quello che ci si stava distaccando ancora di più da quello che oggi è il rapporto con il cittadino il rapporto con la base il rapporto con chi vive i problemi tutti i giorni sulla propria pelle cioè è quello il problema noi possiamo fare le riforme che vogliamo ma se non ascoltiamo quello che dice il cittadino sicuramente sicuramente le riforme anche in quel caso non saranno perfette ma così rischiano di essere ancora più sbagliate quindi il punto è questo io credo nella partecipazione credo che il governo debba trovare può trovare ci sono degli strumenti di partecipazione molto diversi uno degli strumenti sono i corpi intermedi sono le parti sociali l'ho detto prima sentiamo una di loro e poi le conclusioni dei miei ospiti sentiamo cosa dice il segretario generale della GUIL Barbagallo con il Jobs Act la montagna ha partorito un topolino lo ha detto Carmelo Barbagallo segretario generale nazionale della GUIL che alla mezza terme ha partecipato all'assemblea regionale dei delegati aziendali del sindacato Barbagallo ha duramente criticato il governo Renzi e le sue azioni sul lavoro e sull'economia passi in avanti non se ne stanno facendo ha detto Barbagallo decisi passi in avanti mi ricordano un dato siamo sull'orlo del bar facciamo un passo avanti no quello che si sta facendo non va nella direzione giusta bisogna fare in modo di eliminare tutti i contratti di precarietà sono rimasti quelli a tempo determinato a 36 mesi senza casualità hanno introdotto i voucher che riporteranno il lavoro a ore come se tutti fossero lavoratori dei servizi di pulizia o badanti ecco poi inoltre si daranno la decongibuzione e la riduzione dell'IRAP fino a 36 mesi senza mettere un paletto per dire almeno sarete obbligati a farlo a lasciarli occupati fino ad altri 36 mesi allora avrebbe credibilità una motivazione di sgravare fiscalmente e contributivamente così le assunzioni però c'è un dato le assunzioni per decreto non si fanno questa è una terra della più martoriata dal punto di vista dell'occupazione se le imprese che lavorano per mercato interno non hanno lavoratori pensionati cittadini che hanno potere d'acquisto le merci possiamo fargli tutti gli sconti fiscali alle imprese se non ci hanno domanda le aziende chiudono lo stesso e noi oggi siamo con le imprese che producono per l'estero che vanno benissimo siamo ancora il secondo paese europeo come esportazione ma le nostre imprese che sono la stragrande maggioranza che lavorano per mercato interno sono tutte in crisi per evitare la crisi bisogna fare investimenti pubblici e privati come dobbiamo dire ce lo dice pure Obama prima l'anno scorso ce lo diceva il governatore della Banca d'Italia ma non l'hanno manco preso in considerazione Obama sta spendendo mille miliardi di dollari all'anno per arrivare al 3,1% del PIL noi dovremmo come diciamo Europa spenderne 105 per tre anni di cui 105 sono due terzi virtuali con un conteggio moltiplicatore molto strano che è stato applicato dalla commissione Juncker bisogna invece fare innovazioni infrastrutture in Calabria quando si dice usare paesaggi usare le bellezze del territorio usare le eccellenze della produzione agricola usare le capacità che possono avere anche di made in Italy nelle nostre terre ma se non ci sono infrastrutture innovazione e ricerca non c'è speranza e allora cambiare verso lo diciamo noi ma verso lo sviluppo le sue conclusioni professor Zaccano innanzitutto voglio tornare sugli Stati Uniti perché le balle sono balle gli Stati Uniti stanno mettendo dollari che sono carta straccia se gli Stati Uniti per un momento dicono che non mettono i soldi per comprare i botte la borsa crolla quanto finirà questa emissione di denaro si sono messi in un circuito da cui non hanno uscita gli Stati Uniti vanno bene perché stampano soldi questi soldi non valgono niente e non possono fermarsi le cose non vanno viste in un punto fermo vanno viste in prospettiva gli Stati Uniti ci faranno assistere ad un crollo monetario che non si è visto uguale al mondo se continuano così perché il dollaro non vale più niente chiaro? Sì professore la moneta a volte può essere solo lo strumento ma ovvio che lo è ma se ogni mese ma se ogni mese ma se ogni mese ma se ogni mese ma lo ovvio questo ma c'è una misura e sto modo su il rebus c'è una misura nelle cose qui ogni momento in cui la banca centrale americana fa la Federal Reserve fa un tentativo di non mettere più soldi nel mercato la borsa gli dà l'avvertimento e gli dice di continuare addirittura il segretario della Federal Reserve cioè il nuovo eletto dopo Bernanke la Yellen esatto ha dovuto promettere che non avrebbe tagliato i soldi non avrebbe balzato i tassi certo quindi a che stiamo parlando? bisogna stare attenti alle cose perché qui l'americano ci farà assistere ad una bolla monetaria di cui ripeto le quali tanto ciò è vero che ora non voglio toccare questo argomento in politica estera in politica estera molte delle cose che stanno accadendo sono dovute a fatto che alcuni paesi vogliono sganciarsi dal dollaro e l'America questo non lo sopporta nella maniera più assoluta questo è un argomento che è meglio non toccare grazie professore le sue conclusioni dottor Pirani le conclusioni è che le cose non vanno bene bisogna cambiarle io credo che stia crescendo una consapevolezza di dove bisogna muoversi cioè scegliere la via della crescita e dello sviluppo rispetto a quella di una austerity senza sviluppo e senza prospettive nascerà lo Tsipras italiano? non so se nascerà lo Tsipras italiano o no è importante che ci sia la consapevolezza nei cittadini che occorre cambiare strada e credo che questo sia una forza potente per realizzare obiettivi diversi che non siano quelli appunto della recessione o della deflazione in cui oggi ci troviamo ancora a che cosa assisteremo onorevole Gregori da qua in avanti? ma diciamo che le politiche che vengono messe in atto sono delle politiche onestamente coraggiose politiche che erano ferme riforme ferme e mai fatte da anni questo è vero quindi le riforme devono andare avanti assolutamente ma il premier Renzi deve capire che prima di dialogare con forze di opposizione esterne al Parlamento perché ricordo che il patto del Nazareno è nato fuori dal Parlamento credo farebbe bene a discutere con il suo partito e riportare quello che è stato il metodo Mattarella così noi daremo veramente delle risposte secondo me al Paese grazie 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 dottor Pirani grazie non Gregori grazie grazie tutti quanti voi e sicuramente sul lavoro non finisce qui buona serata a tutti quanti arrivederci a venerdì prossimo grazie a tutti Grazie a tutti.